Ciao a tutti ragazzi sono Kendall l'unicorno a quanto pare e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ci troviamo in una mappa dove dovremmo rispondere a 100 domande su Minecraft Voi quanto bene conoscete il vostro gioco preferito? Riuscireste a rispondere a tutte queste domande? Alcune anche tra bocchetto? Vediamo, scopriamolo subito Allora, difficoltà facile Io conosco molto bene Minecraft Mettiamo difficoltà Ah, non posso mettere difficoltà difficile Ok, allora mettiamo facile Checkpoint sì Ok, va bene, iniziamo 3, 2, 1 Vediamo che domande ci farà A quale gioco stai giocando? Minecraft, Terraria oppure Spider-Man? No, stai giocando a Minecraft Ok, wow, difficile questa Vi assicuro che tra non molto diventeranno un po' più difficili Vediamo questa Quale di questi blocchi ti ferma dal prendere danno da caduta? Ossidiana, acqua o bedrock? Beh, acqua direi Ok, fantastico, fantastico Ci sono altre 48 domande a cui rispondere Sì, lo so, ho detto 100 Ma perché 100 sembrava più bello da dire Allora, quale di questi mostri è ostile? Quindi che ti attacca? Una mucca, un pollo, uno zombie Sì, uno zombie Ah, sei molto intelligente Grazie, grazie, grazie Ok, 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 ok Che tipo di legno è questo? Legno di giungla Perfetto Poi vediamo Come si chiama il blocco che è davanti? Si chiama Uh, aspetta La zucca lavorata Una zucca normale Oppure la jack-o'-lantern Ok, come si chiama? Eh, cavolo Direi jack-o'-lantern Però secondo me si chiama Carved Punking Oh, l'ho presa Ok, ho indovinato Vedete che stanno iniziando a diventare sempre più difficili le domande? Ok, chi è il creatore di questa mappa? Oh, cavolo Eh, dottor Jones 4 C'è scritto a destra, no? Dottor Jones 4 Oppure dottor Jones 4 Qual è la differenza? Eh, beh, è questa Ok Quali di questi blocchi Ha la gravità? Vediamo Sandstone Gravel O bone block Direi gravel Che tipo di legno è questo? Oh, cavolo Questo è il nuovo blocco Non so come si chiama Oaklog No Crimson Stem Warped Stem Allora, crimson se non sbaglio è quello rosso Quindi io direi con warped Ok, wuhuu Fantastico Vediamo la prossima domanda Quali di questi blocchi è indistruttibile in Minecraft Survival? Eh, il detrito antico L'ossidiana piangente O la bedrock Vabbè, dai, la bedrock Lo sanno tutti Bedrock Fino ad ora non ne ho sbagliato neanche una Quindi Lasciate mi piace Mi raccomando E soprattutto State facendo questo test insieme a me Me lo auguro Ditemi voi quante ne sbagliate Allora Puoi piazzare l'acqua nel nether Beh, no Però Aspetta Mi sta avvenendo un dubbio Forse L'acqua nel nether Si può piazzare Dentro un calderone Quindi sì Oddio No Non ci credo Ok, non era una domanda trabocchetto Io pensavo Ok, quindi no Non si può piazzare Cavolo Pensavo che Mettendola nel calderone Contasse comunque come risposta Invece no Quale di questi non è un colorante Blue dye Light green dye Yellow dye Light green Il verde chiaro si chiama lime Ok Ok, fino ad ora ho fatto soltanto un errore Che tra l'altro la sapevo quella risposta Però pensavo fosse trabocchetto Vediamo adesso Quanto può scendere l'acqua Dal suo blocco iniziale Sei blocchi Sette blocchi Otto blocchi Direi otto blocchi No Ah, ho sbagliato Oh, dove sono? No, 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 no Perché c'è un dropper? Oh, mio Dio Cosa? Ok Ah, riniziamo dal checkpoint L'acqua nel nether No Poi Ci abbiamo questo qua Che è sbagliato Ok Quindi Sei blocchi? No, no Sette Sicuramente sette Ok, sette blocchi L'acqua può andare avanti Per ben sette blocchi Dal blocco iniziale Vediamo un pochettino Qual è l'altra domanda Eh, la stessa domanda Però con la lava Ok Tre blocchi Quattro blocchi Sette blocchi Sette? Come l'acqua? No Oh, mamma mia Che paura Stavo leggendo giù La chat E mi sono caduti Gli incontri Ok Quindi sette È soltanto per il nether Nel mondo normale Non può andare avanti Per sette blocchi Ma va avanti per meno blocchi Quindi direi quattro Perché tre mi sembrano troppo pochi Tre blocchi Ehm Sono Ok Dovrò morire Mi sa Sì Qualcosa mi dice che dovrò uccidermi In pratica Quando sbaglio una risposta Entri all'interno della camera Delle punizioni E adesso Addio Ok Ok mi piace questa cosa Mi piace il fatto che Quando sbagli Ti dà la possibilità Di ucciderti Oppure semplicemente Di restare dentro Quella camera Tutto il tempo Ok Allora è tre blocchi Cavolo Non lo sapevo Non ne avevo la minima idea Tre blocchi Ok Vediamo la prossima domanda Qual è il nome Del Della skin originale Di minecraft Beh direi Steve Il personaggio originale Di minecraft È Steve Oh mio dio Che sono tutte queste risposte Sì Dai Ok Vediamo Chi è lo youtuber migliore di minecraft Vabbè ma questo è facile Dai Devo cercare soltanto Kendal Dov'è Kendal 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 No Non c'è No No Dov'è Kendal Scusa Jelly Unspeakable Preston Popular Dov'è Kendal No 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 Non è giusto Non è giusto È la risposta sbagliata No Non trovo il mio nome Quale di questi oggetti Non può essere utilizzato Come combustibile Nella fornace Ok Ok Oh che pressure plate Non credo Perché è legno Quindi legno si può usare Lanterna Oppure Crimson La lanterna Non si può usare Cosa Si può usare la lanterna Non ne avevo idea Ok Allora direi Questo Oh Quindi la lanterna Si può usare Come combustibile Cavolo Quante cose si imparano Ok In quale versione di minecraft È stato aggiunto Land 1.1 1.0 O pre-release 1.8 No 1.8 È troppo in là Io direi 1.1 Non mi ricordo Cavolo Ho sbagliato Allora è la 1.0 Ok Ce l'abbiamo fatta Vediamo la prossima domanda Qual è il mostro scolpito Sulla chiseled sandstone Uno scheletro Un wither Un wither Aspetta No 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 O è un wither O è un creeper Non mi ricordo Cavolo cavolo Qual è È il mostro scolpito Sulla sandstone C'è un esempio qua Magari ha messo il blocco Da qualche parte No non l'ha messo Proviamo con il creeper Uh Era giusta Ok Quale di questi oggetti Non può essere Sciolto In una blast furnace In una fornace blast Nether gold Or Il quarzo Oppure Cos'è Lo zaffiro Non esiste lo zaffiro Su minecraft Ma cos'era Era trabocchetto Ve l'ho detto Ce ne sono molte trabocchetto Ok Ma che cavolo Perché ci sono le domande Qual è l'ingrediente principale Per una pozione di velocità Lo zucchero No Oh si è lo zucchero Ok Stavo per dire No 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 Ho sbagliato Invece no Era giusta No 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 Ho sbagliato Cosa dite Ok Quale blocco è questo Questo è un blocco di Cemento grigio Dark grey No non è È terracotta È terracotta Grey terracotta allora No Ecco Ma come Ho sbagliato Aspetta Ma scusa Quindi se non è La dark terracotta Dark grey terracotta Ciano non è Quindi è dark grey È ciano Ma come è ciano Ok A quanto pare Quello è un blocco di ciano Qualcuno saprebbe rispondere Alla domanda Per quale motivo Il ciano Sembra così Grigio E infatti È grigio Vabbè Quanti blocchi riesce a spingere Un pistone 12 10 O 16 Ma io direi 16 Forse No Evidentemente non era 16 Fantastico Bel Bel modo di morire Ragazzi Bel modo di morire Cavolo Ne sto sbagliando tante di domande Cioè Credevo Di sapere molte più cose su minecraft Allora proviamo con 10 No Non è neanche 10 E allora è 12 Ok Quanti slot ci sono In una cesta doppia 54 30 O 49 Allora sicuramente Non sono 49 Io direi 54 Alex è una ragazza O un ragazzo È una ragazza Lo sanno tutti Quale mostro Ha più vita di tutti L'iron golem L'ender dragon Il wither Oh Questa è difficile Allora Avrei detto l'iron golem Se qua non ci fosse orsato Ender dragon E wither Perché l'iron golem Ne ha tanto Però ovviamente L'ender dragon Ne ha di più E il wither Forse anche di più Io direi Ender dra Però non lo so L'ender dragon Ha tanta vita Perché si rigenera Non perché ne ha tanto Dai ci proviamo È sbagliato E infatti lo sapevo È il wither È il wither Non ci posso credere Il wither Ha più vita di tutti Quale di questi Non è un vero fiore di minecraft Azzur bluet Wither flower Orange tulip È l'azzur bluet Cosa? Ah è il wither flower Certo perché non esiste Il fiore del wither Si chiama rose È la rosa del wither Cavolo mi sono fatto fregare Da una domanda così facile Proviamo in un'altra Allora In quale bioma si trovano i coralli Ok Look warm ocean O warm ocean Credo il warm Penso sia l'oceano caldo Uh ok Quanta potenza di luce Rilascia una lanterna blu 10 14 15 Ma come faccio a saperlo? Beh non è molta Quindi direi 10 Uh Corretto Oh mio Oh Chi è Herobrine? È Voldemort È il fratello morto di Notch Oppure È stato rimosso dal gioco È il fratello morto di Notch Ok giusto In quale di questi biomi Non nevica mai? Giant tree taiga hills Taiga mountains O Wooded mountains Io direi Giant tree taiga hills Ok giusto Non so neanche come si chiama quel biomi in italiano ragazzi Scusate se non ve l'ho tradotto Quali di questi biomi non esiste nel gioco? Command block Ah quali di questi oggetti scusate Command block di mine Command block mine cart No forse esiste Music disc C 4 18 Mall Non lo so All pillar Coral Coral Questo Ok Quali di questi oggetti non è nel gioco? Di nuovo Stessa domanda di prima Polish blackstone button Arrow of luck Oppure repeating command block minecraft Io direi repeating command block minecraft Mamma mia ragazzi Quante ne so Fino ad ora Sta andando molto bene La balla di fieno Quanto danno da caduta riduce? 80% 50% 60% Ne riduce un bel po' Direi 80% Giusto Ok Quali di questi fa più danno? Sbagliare una stretta di mano con qualcuno Oppure Salutare qualcuno per strada per sbaglio? Rispondere anche a te quando il cameriere ti dice buon pranzo? Allora io direi questa Dare una stretta di mano sbagliata, imbarazzante Ok Quali di questi slab non esiste? Comunque è divertente questa mappa Smooth quartz slab Questo esiste sicuro Il quarzo liscio Cut redstone Red sandstone slab Anche questo esiste Questo non esiste Quello del basalto Quali di questi oggetti non puoi ottenere commerciando con i piglins? Soul speed block Iron nuggets O glowstone block Io direi glowstone Mamma mia ragazzi Le so tutte Le so tutte Il mio cosiddetto intellettivo per ora È di 149 Su tutte le risposte di minecraft Ok Quali di questi biomi non esiste? Giant tree, tiger mountains Oceano Oppure modified wooded badlands Plato Questo No lo sapevo che era trabocchetto Lo sapevo che era l'altra Quindi la risposta giusta è questa Giant tree, tiger mountains Ok Andiamo avanti Come fai ad ottenere l'avanzamento a complete catalog? Un catalogo completo Allora Deve essere sicuramente qualcosa che ha a che fare con completare tipo l'album di un qualcosa Quindi Collezionare tutte le varianti di pesce Possibile Uuuuh Farti diventare i tuoi amici tutti i gatti Oppure Commerciare con ogni tipo di villager Io direi quello del pesce Perché credo di averlo già letto Ok Non avevo letto un bel nulla Cavolo che paura Ogni volta che mi cadono sti così in testa Quindi proviamo con i gatti Ok Era i gatti Vediamo Steve e Alex Stanno insieme No Sono Fratelli e sorelle No Non sono fratelli e sorelle Ah Pensavo fossero Ok Quindi Steve è stato franzonato Oppure si stanno insieme Facciamo Steve è stato franzonato No Stanno insieme Non ci credo Alex e Steve stanno insieme Io non la sapevo sta cosa Ah no Ha detto che se l'ha inventato lui Se l'ha inventato il creatore della mappa Ma allora non è giusto Non ho sbagliato quella risposta Ok vediamo Quali di questi oggetti ti cura più la fame Cooked beef Rabbit stew Oppure pumpkin pie La carne cotta No Ok allora deve essere la torta di zucca Si 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 è sicuramente la torta di zucca No Ok anche questa vedete Pensavo di sapere la risposta Invece evidentemente non è così Quindi a quanto pare La zuppa Di coniglio È quella che ti dà più Cosciotti di cibo Quale di queste uova dei mostri Non esiste Oglin brute Elder guardian Oppure wandering trader Uh Allora il wandering trader È tipo quello che spunta la notte Con i lama Questo esiste Ne sono sicuro Non so se esiste il bruto degli oglin Penso di sì Quindi direi questo No Allora sarà il bruto È l'oglin brutto Si 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 Bruto non brutto ragazzi Ok è questo Ok Quali di questi ingredienti Ti servono per Fare una pozione di invisibilità Uh Ghast Golden carrel Tu pure fermente dai Spider Io direi Lacrima di ghast E io ho anche sbagliato Ok è un dropper È un dropper È un dropper Lo possiamo fare I dropper sono facili Kendall ha fatto sempre tanti dropper Ok non sono facili Questo è difficile Quanti tipi di fiori esistono su Minecraft 17 13 15 15 Secondo me sono 15 Non erano 15 E ora muoio 13 Sono 13 No Sono 17 Qual è il nome completo di Steve 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 Jobs Oppure Steve Harvey Dai Steve È un trollino questo qua Ok vediamo Quanti biomi del nether esistono 4 5 O 6 Fatemi pensare Allora C'è Il bioma normale Il bioma blu Il bioma rosso Il bioma del vulcano Sono 4 Esiste un altro? Sono 4 Sono 4 No Perché? Me ne sto dimenticando uno? Pensavo fossero 4 Allora sono 5 Ok sono 5 Sapevi che esistono più di 60 biomi su Minecraft? Cavolo Ok quanti coloranti ci sono nel gioco? Sì ma a sto punto non lo so Io a sto punto vado per 18 No non ci credo era giusto Vediamo Ah pensi di conoscere Minecraft eh? Quanti blocchi esistono nel gioco? Questa la so Se non sbaglio sono Tipo Allora se non sbaglio sono più di 2000 item Però saranno 700 blocchi 880 Non li voglio contare 702 Sono 702 Sì non ci posso credere! Ti sei divertito a giocare questa mappa? Non male Oppure sì Sì mi sono divertito Oh mio dio Cosa? Perché c'era una foto di Danny DeVito? Ok ragazzi è stata una mappa veramente super Super divertente Molto interessante perché Ti insegna cose che sicuramente Non conosci su Minecraft E nel frattempo qua possiamo ammirare La faccia di Danny DeVito Non so per quale motivo C'è questa immagine Comunque c'è un cosiddetto intellettivo di 175 Provate anche voi a giocare a questa mappa E fatemi sapere qua sotto nei commenti Quante risposte corrette avete dato E quante invece ne avete sbagliate Dal vostro Kendall Unicorn è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao